Oggi ci occupiamo della proposizione principale. In realtà nelle due lezioni precedenti abbiamo già visto alcuni aspetti di questa proposizione. Ho pensato però di raccogliere tutte le informazioni in un unico luogo e di aggiungere anche alcune che mancano. Quindi proposizione principale come facciamo a riconoscerla? Che caratteristiche ha? Le caratteristiche della proposizione principale sono che può stare da sola, cioè è una proposizione che non ha bisogno di altre proposizioni per avere un senso compiuto. Proprio per questo non è introdotta da congiunzioni, preposizioni, pronomi, avverbi e chi più ne ha più ne metta. E poi il suo verbo, il predicato, è sempre espresso in modo finito. Quindi non troverai una proposizione principale con il verbo all'infinito, al gerundio o al participio. Ma come al solito partiamo subito da degli esempi. Analizziamo le frasi col solito sistema. Per prima cosa si devono individuare i predicati. È un bravo giocatore, predicato nominale, segna, predicato verbale. Regola d'oro, se ci sono due predicati ci saranno due proposizioni. Pino è un bravo giocatore, quella costruita intorno al primo predicato, perché segna molti punti, è la seconda. Noi capiamo anche, abbiamo una sorta di verifica che qua va bene la nostra stanghetta, perché? Perché qui abbiamo un perché, che in questo caso è una congiunzione. Se questa proposizione è introdotta da una congiunzione, noi già abbiamo capito che non può essere la proposizione principale. Verifichiamo. Pino è un bravo giocatore, punto. Potrei chiuderla qui? Certo. Infatti questa è una frase che sta da sola, che ha un significato compiuto senza aver bisogno di altro. Quindi è la nostra proposizione principale. Veniamo al secondo esempio. Quando avrai finito i compiti, andrai al parco. Avrai finito, andrai. Quando avrai finito i compiti, è la proposizione intorno al predicato, avrai finito, andrai al parco, è l'altra. Ma io che cosa noto? Noto che qui c'è un quando. Se c'è quando, che in questo caso è un adverbio, sono sicura che questa non può essere la proposizione principale. Andiamo a verificare l'altra. Andrai al parco. Posso dire semplicemente andrai al parco, punto. Sì, certo, è una proposizione che non ha bisogno di altro per reggersi. Quindi sarà la nostra proposizione principale. Terzo esempio. Se sei d'accordo, ti avviserò per comunicarti la data. E allora qui abbiamo il verbo essere, abbiamo il verbo avvisare, abbiamo il verbo comunicare. Quindi tre predicati, tre proposizioni. Qui c'è un se. Allora, togliamoci subito tutti i dubbi. Se sei d'accordo. Il se è una congiunzione. E quindi non può essere la principale se sei d'accordo. Questa è una proposizione. Ti avviserò per comunicarti la data. Allora io metto qui la mia sbarretta perché le frasi costruite intorno ai predicati sono queste due. E che cosa noto? Noto, ad esempio, che qui c'è un per che è una preposizione. Allora so già che questa ultima non può essere la principale. Andiamo a verificare quella che ci rimane. Ti avviserò. Ti avviserò è una proposizione che non ha bisogno di altro. Può stare tranquillamente da sola. Non è introdotta da nulla. Ed ecco che è la nostra principale. Veniamo all'ultimo esempio. Ogni mercoledì, poiché mi sono iscritto, vado in palestra. Cerchiamo subito i verbi. Sono iscritto, vado. Due predicati, due proposizioni. Ad una lettura veloce, un po' affrettata, mi verrebbe da dire, beh, facile, qui. Anzi, dirò di più. Trovo già la principale. Perché? Perché vado in palestra, è una proposizione che si regge da sola, può stare da sola. Non è introdotta da niente, quindi è la mia principale. E quindi questa è l'altra. Peccato che se io mi limitassi a questa analisi, compierei un grave errore. Intanto che cosa noto? Noto che qui c'è un poiché, che è una congiunzione. Questo quindi è già un campanellino d'allarme. Perché? Perché se il poiché è sistemato qui, vuol dire che qui comincia la proposizione. Io non posso tenere insieme tutta questa parte. Infatti, se leggo attentamente, di che cosa mi accorgo? Intanto mi accorgo che questa proposizione, poiché mi sono iscritto, è contenuta tra due virgole. Che è un altro modo per farmi capire che inizia dal poiché e finisce a iscritto. Quindi io non posso aggiungerci altri pezzi. E poi, secondo logica, io dico ogni mercoledì vado in palestra. No ogni mercoledì poiché mi sono iscritto, che non avrebbe nessun significato. Quindi, ricordati sempre, come abbiamo già detto, Io devo leggere bene tutto il periodo e capire bene il significato di quel periodo. Allora, ogni mercoledì farà parte della proposizione principale. Quindi la proposizione principale in questo caso è Ogni mercoledì vado in palestra. Un'altra cosa che notiamo dall'analisi di queste quattro frasi è che la proposizione principale non è necessariamente sempre la prima, come nel primo caso. Io qui ce l'ho all'inizio e poi ho una subordinata. Ma nel secondo caso la proposizione principale è in fondo al periodo. Nel terzo caso è a metà, è all'interno, tra una subordinata e un'altra subordinata. Addirittura nell'ultimo esempio io ho una proposizione principale che è stata spezzata da una subordinata. Quindi da questi esempi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che non bisogna pensare, non bisogna credere che la proposizione principale sia sempre all'inizio. Se ti ricordi, è lo stesso discorso del soggetto di una frase quando hai fatto l'analisi logica. Non è mica detto che il soggetto sia sempre all'inizio della frase. Può essere anche posizionato in altri luoghi. Vediamo un altro aspetto. Oggi sono proprio soddisfatta. Se io faccio la mia analisi, vedo che ho un solo predicato, che è un predicato nominale, sono soddisfatta e mi dico facilissimo perché ho una sola proposizione che ovviamente si regge da sola e quindi io qua scrivo principale. Non è così. Non è così perché? Perché tu usi la parola principale per indicare qualcosa di più importante rispetto ad altri. Qui gli altri non ci sono. C'è solo questa. Allora, non ha senso chiamarla proposizione principale perché in realtà non ce ne sono altre. Come la dovremmo chiamare? La dovremmo chiamare proposizione indipendente. Quindi, tutte le volte che troverai una proposizione da sola, unica, non chiamarla principale, ma chiamala proposizione indipendente. Perché c'è solo quella. Veniamo ora all'ultimo esempio, all'ultimo caso. La pizza, lo sanno tutti, è famosa in tutto il mondo. Facciamo l'analisi come al solito. Sanno, è famosa. Quindi, due predicati, due proposizioni. È famosa in tutto il mondo, vedo subito che è una proposizione che può stare da sola. Ma, capisco anche che manca un pezzo. Perché è famosa in tutto il mondo. Che cosa? La pizza. Allora, qui abbiamo il caso che abbiamo visto precedentemente. La pizza è un elemento della frase che va collegato a è famosa in tutto il mondo. Tra l'altro il suo soggetto. Infatti, questa frasettina qui, lo sanno tutti, è racchiusa tra due virgole. Quindi, le mie sbarrette, io ne metterò una qui, una qui, e questa diventa la mia principale. Quindi, la principale è la pizza è famosa in tutto il mondo. Lo sanno tutti è una proposizione un po' particolare. Eliminiamo la nostra analisi e facciamo finta che qui questo pezzo non c'è. La pizza è famosa in tutto il mondo non subisce alcun cambiamento. Il suo significato rimane esattamente come era prima, inalterato. Diventa, in questo caso, una proposizione indipendente perché ci sarebbe solo questa. ma allora, questa frasetta qua, che cos'è? Lo sanno tutti? È una proposizione autonoma incidentale. Autonoma perché non è collegata direttamente a nulla. Vedi che non ci sono preposizioni, congiunzioni, avverbi, non è collegata. È qualcosa che sta a sé. Incidentale significa che è qualcosa che sta all'interno di una frase ma potrebbe anche non esserci. È come una informazione in più che però non è necessaria. Quindi abbiamo detto in questo caso tu dovresti scrivere la pizza è famosa in tutto il mondo principale. Questa è una proposizione autonoma incidentale. principale. Quindi non devi dire che è una subordinata perché vedi che non è collegata a nulla. È un'altra proposizione che sta per conto proprio ma che noi non possiamo chiamare principale perché in realtà è un'informazione non necessaria. Bene, cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato come si riconosce una proposizione principale dalle sue caratteristiche dove si trova all'interno del periodo e poi abbiamo imparato che cos'è una proposizione indipendente e che cos'è una proposizione incidentale. A questo punto ti auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima. che cos'è